È un ambiente straordinario in cui le cose che sono facili sulla Terra in condizioni normali diventano difficili e quello che invece è difficile sulla Terra diventa particolarmente facile. Vieni con noi per conoscere un mondo di grandi pionieri, scienziati e innovatori. Prometeo, ogni venerdì alle 17 su Class TV, canale 27 del Digitale Terrestre. Grazie